Caro bollette, energia elettrica e gas, anche in Sardegna gli aumenti, anche del 200%, mettono in difficoltà le imprese, particolarmente colpite quelle di piccole dimensioni, le alimentari, molini, panifici, caseifici ed altri. Maria Melialai, presidente Confartigianato a Sardegna, si esprime così. Situazione difficile, milioni di euro, di costi in più, e che non potranno essere scaricati sui consumatori. Il governo deve intervenire, non bastano i quasi 4 miliardi di euro messi a disposizione. Siamo seriamente preoccupati per la sopravvivenza di tante aziende che rischiano nel 2022 di vedere l'energia elettrica e gas aumentare anche del 200%. Questo il timore sull'entrata in vigore delle nuove tariffe elettriche, che potrebbero seriamente danneggiare un sistema produttivo che lentamente, a fatica, tenta di rialzarsi dalla crisi, infatti una fluttuazione dei costi energetici pericolosamente altalenante, il cui picco l'associazione artigiana ha voluto fotografare al 1 gennaio, unito a un sistema produttivo che ha notevoli difficoltà a programmare la produzione futura, creano una pericolosa condizione di panico. Le nostre imprese, le nostre officine, i nostri cantieri, i nostri laboratori iniziano a rinunciare a prendere nuovi ordini, nonostante la fortissima richiesta di beni e servizi, continua la Presidente, perché gli aumenti dei costi delle materie prime, tra le quali spiccano l'energia e il gas, sono impossibili da trasferire sulla committenza. È una situazione che ci allarma molto, in quanto una parte delle imprese rischia addirittura di non riaprire dopo le festività natalizie. Il caro tariffe di energia elettrica e gas, infatti, sta incidendo pesantemente su aziende e famiglie. Nel mese di ottobre 2021, ad esempio, il salto tarifario per l'energia elettrica rispetto al mese precedente è stato del 37%, mentre l'aumento di novembre su ottobre è stato di un altro 3,9%, arrivando al mese di dicembre, che rispetto al mese di novembre ci dà un aumento tarifario di almeno il 28%, aumenti riscontrabili facilmente nella borsa elettrica, visto che fanno riferimento all'andamento medio mensile del PUN, il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica. La situazione è insostenibile, le imprese non possono vivere sull'incertezza e il timore di quel che può accadere da qui alla primavera, quindi come si può programmare la propria attività? Si chiede il segretario regionale di Confartigianato Sardegna, Daniele Serra. Il CAEM, uno dei consorsi di riferimento di Confartigianato per le forniture di energia elettrica e gas, che opera per diverse migliaia di piccole imprese, ha fatto alcune simulazioni sugli aumenti nel 2022 sulla base dell'attuale andamento del prezzo della borsa elettrica, sia sul gas che sull'energia. Ne emerge uno scenario davvero impressionante. Rispetto al 2021, un molino che utilizza quasi 1,5 milioni di kilowatt annui subirà un aumento del 220% e passerà da 131 a 420 mila euro di costi. Un'azienda della plastica che utilizza annualmente 2,5 milioni di kilowatt avrà un aumento della spesa del 202%, passando da 267 mila euro a 806. Questi sono gli esempi se il livello della borsa elettrica si manterrà, come attualmente, anche per il 2022, aggiunge il segretario. Ecco perché ci aspettiamo un intervento legislativo che vada ben oltre i 3,8 miliardi messi a disposizione dal governo. È il momento che tutti i soggetti pubblici, per quanto in loro potere, intervengano con formule di abbattimento dei costi energetici, concludono l'ISR. Si tratta di intervenire in maniera importante, almeno per il primo trimestre del 2022, soprattutto per quelle piccole imprese che hanno in questo periodo contratti indicizzati, oltre a quelle piccole imprese che hanno contratualizzato tariffe fisse con attivazione dal mese di settembre 2021. Queste sono quelle che nel primo trimestre 2022 rischiano di dover effettivamente sospendere l'attività per l'elevato costo di energia e gas.